Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire l'amplificatore per cuffie Doke Audio U3. Prima di iniziare con il video, se sei nuovo dal canale e ti interessano le recensioni di prodotti audio e e-fi come diffusori, amplificatori, cuffie e amplificatori per cuffie, ti consiglio di iscriverti al canale così da non perderti le prossime recensioni. Ci tengo a precisare che questo prodotto mi è stato inviato dall'azienda produttrice, la Doke Audio, per testarlo e fargli una recensione. Partiamo subito con l'unboxing. Come potete vedere la scatola è molto spartana, visto che c'è la scritta U3, scritta in pennarello praticamente. Una volta aperta troviamo il manuale, che è scritto in lingua inglese. Poi troviamo un cavetto che da un lato ha una presa USB e dall'altro una presa che andrà collegata all'amplificatore. Poi un adattatore da jack grande da 6,3 mm al jack piccolo da 3,5 mm. Poi avvolto in molto plurible e molto scotch troviamo l'amplificatore vero e proprio. Questo tipo di invallo non mi piace per nulla, visto che nell'andare ad aprire il plurible con un taglierino si rischia appunto di danneggiare l'amplificatore. Quindi bisogna andarci veramente con cautela e stare attenti. Una volta rimosso tutto il plurible, l'amplificatore è protetto da un ulteriore busto in plastica sigillata. Una volta rimossa anche questa protezione possiamo vedere l'amplificatore, che è veramente molto compatto, sta nel palmo di una mano, ha questo frontale color champagne, mentre il resto è alluminio nero. Devo dire che le finiture sono molto buone e in generale l'apparecchio è davvero carino. Andiamo a vedere il pannello frontale dell'amplificatore per cuffie. Troviamo un'uscita jack grande da 6,3 mm, che è appunto l'uscita amplificata per le cuffie. E poi troviamo il potenziometro che permette la regolazione del volume. Nell'uscita jack possiamo facilmente inserire l'adattatore che abbiamo visto prima per trasformarla in un'uscita jack da 3,5 mm. Diamo un'occhiata anche al pannello posteriore dell'amplificatore. Troviamo un ingresso per l'alimentatore. Alimentatore che però non è incluso nella confezione. Sopra al connettore è indicato il range di tensioni che accetta l'ingresso, in particolare da 5V fino a 20V. L'alimentatore più semplice che possiamo utilizzare è il classico alimentatore che usiamo per caricare i nostri cellulari. Ad esempio un classico alimentatore da 5V 1A va benissimo per alimentare questo tipo di amplificatore. Come potete vedere ho utilizzato questo, che è un classico alimentatore USB a 5V, utilizzando il cavo USB che è in dotazione all'amplificatore. Ho anche effettuato delle prove utilizzando un alimentatore lineare da 5V, ma le differenze tra i due tipi di alimentatori le vedremo nella parte di misurazioni. Tornando al retro dell'amplificatore troviamo l'ingresso stereofonico di linea con connettori RCA. Infine il tasto di accensione che ci permette di spegnere e accendere il dispositivo. A parer mio forse è un po' scomodo avere il tasto di accensione sul retro, avrei preferito averlo sul frontale. Vediamo ora brevemente le caratteristiche tecniche che dichiara il costruttore. Le cose più interessanti sono la potenza di uscita che è maggiore o uguale a 1300mW, quindi 1W3 su 32 Ohm, cosa che poi andremo a verificare nella parte di misurazioni. L'impedenza delle cuffie a cui può essere abbinato da 18 a 600 Ohm. La risposta in frequenza da 20 Hz a 30 kHz, anche questa andremo poi a verificarla. Rapporto segnale rumore maggiore o uguale di 110 dB. Le dimensioni 67 mm di larghezza, 93 mm di profondità e 30 mm di altezza. E infine il peso netto che è di soli 170 grammi. Andiamo ora a smontare l'amplificatore per vedere come è fatto all'interno. Una volta rimosse le quattro viti del pannello frontale e la vite a croce degli ingressi RCA posteriori, possiamo sfilare l'estruso in alluminio e vedere il circuito. Come possiamo vedere il circuito è molto piccolo ma abbastanza affollato di componenti. La cosa interessante da notare è il chip vero e proprio di amplificazione che è uno pump, che è il 5532 della Texas Instrument. Ed è molto interessante il fatto che sia montato su zoccolo e non sia saldato. In questo modo possiamo andare a sostituirlo facilmente con altri tipi di hop-amp compatibili che hanno magari però delle sfumature di suono diverse. Vediamo ora le misurazioni che ho effettuato su questo amplificatore e per prima cosa vediamo la risposta in frequenza al variare del carico. In questo grafico vediamo in rosso la curva della risposta in frequenza su un carico da 300 Ohm, in giallo su un carico da 150 Ohm e in verde su un carico da 33 Ohm. Ho scelto questi valori per andare a simulare sia la risposta su cuffie a bassa impedenza come potrebbe essere 33 Ohm ma anche su cuffie ad alta impedenza come 150-300 Ohm. Possiamo vedere che l'amplificatore è molto lineare specialmente sulle alte impedenze. A 20 Hz abbiamo un'attenuazione infatti di circa 0,1 dB quindi praticamente nulla e anche a 20 kHz abbiamo un'attenuazione di circa 0,1 dB. Quindi veramente ottimo e riesce anche ad arrivare fino a 80 kHz con l'attenuazione di solo 1 dB. La stessa cosa avviene anche su cuffie a bassa impedenza quindi sui 33 Ohm. L'unica differenza è che sono la risposta leggermente più attenuata all'estremo basso quindi sui 20 Hz siamo circa 0,8 dB di attenuazione. Per quanto riguarda la variazione dell'ampiezza in funzione della variazione del carico abbiamo che dai 33 Ohm ai 300 Ohm abbiamo un gap di circa 2 dB. Andiamo ora a vedere la distorsione armonica di questo amplificatore. Se non sai cos'è la distorsione armonica e se questo grafico non ti dice nulla ti consiglio di andare a vedere il video che ho fatto dove spiego come leggere i grafici di distorsione armonica e spiego cos'è la distorsione armonica. Puoi andare direttamente al video cliccando il banner che ti compare adesso in alto a destra. Questo grafico è stato ottenuto utilizzando come alimentatore l'alimentatore switching che vi ho mostrato precedentemente, quello per caricare il cellulare per intenderci. La misurazione è stata eseguita usando un tono fondamentale a una frequenza di 1030 Hz con un'ampiezza di 1 volt su un carico da 33 Ohm. Come possiamo vedere dal grafico abbiamo un fondo di rumore che parte da meno 120 dB per le basse frequenze e arriva a meno 115 dB per le alte frequenze sotto il quale non possiamo andare a misurare distorsione. Abbiamo una seconda armonica che ha una differenza rispetto alla fondamentale di 94,6 dB, una terza armonica con una differenza di 94,9 dB, una quarta armonica che è sotto il fondo di rumore, una quinta armonica a 97,9 dB, una sesta armonica a 111 dB e una settima armonica a 105,6 dB. Dopodiché tutte le armoniche scomparono al di sotto del rumore. Svolgendo i calcoli otteniamo una THD dello 0.00584%, che è un valore veramente ottimo. Per andare a vedere l'influenza dell'alimentatore sull'amplificatore sono andato a ripetere lo stesso test utilizzando però un alimentatore lineare da 5 volt. Come possiamo vedere i valori sono rimasti all'incirca di medesimi, l'unica cosa da notare è che in questo caso è scomparsa la sesta armonica. Svolgendo i calcoli in questo caso otteniamo una THD del 0.00563%, leggermente più bassa rispetto a quella con l'alimentatore switching. A parer mio però una differenza del genere non è udibile ad orecchio, quindi a parer mio si può utilizzare un banalissimo alimentatore switching per pilotare questo tipo di amplificatore, che evidentemente ha un'ottima reazione ai disturbi dell'alimentazione. Andiamo a vedere poi la distorsione di intermodulazione. In questo caso viene applicato all'amplificatore un segnale che comprende molte frequenze fondamentali e si va ad analizzare la distorsione che ne deriva. In blu possiamo vedere il grafico relativo a questo amplificatore. La misurazione l'ho eseguita sia con l'alimentatore switching sia con l'alimentatore lineare, ma era pressoché la medesima, quindi ho riportato solo quella con l'alimentatore switching. Abbiamo un fondo di distorsione a 115 dB di differenza rispetto alle fondamentali e abbiamo una distorsione peggiore a 109 dB di differenza. In giallo invece vediamo il grafico di distorsione di intermodulazione del Docaudio U10, diciamo il fratello valvolare di questo amplificatore, che come era chiaro aspettarsi presenta molto più distorsione che è introdotta dalle valvole. Possiamo quindi dire che questo piccolo amplificatorino per cuffie a livello di distorsione è eccellente. Ha veramente degli ottimi grafici di distorsione. Passiamo ora a vedere la potenza misurata di questo amplificatore, potenza che viene misurata con una distorsione massima dell'1%. Vediamo che su 33 Ohm riesce ad erogare 550 mW, quindi meno della metà del valore che è dichiarato nelle caratteristiche tecniche, ma comunque un ottimo valore di potenza per un amplificatore per cuffie. 286 mW su 150 Ohm e 167 mW su 300 Ohm. Quindi abbiamo una buona potenza che ci promette di pilotare la maggior parte delle cuffie sul mercato. Visto che l'amplificatore accetta anche voltaggi superiore a 5V fino a 20V, ho provato anche con un alimentatore a 20V per vedere se la potenza aumentava o cambiava qualche altro parametro dell'amplificatore. E posso dirvi che anche aumentando il voltaggio le caratteristiche dell'amplificatore rimangono le medesime. Non c'è alcuna variazione né di THD né di potenza né di risposta in frequenza. Un altro dato che potrebbe essere interessante è il consumo che ha questo amplificatore. Alimentato a 5V ha un consumo medio di 200 mA e un massimo di 350 mA. Veniamo ora alle note d'uso ed ascolto. Per quanto riguarda le note d'uso, l'amplificatore è veramente comodo perché è praticamente tascabile, è piccolissimo quindi si può mettere dappertutto e si può alimentare anche con un classico powerbank e possiamo portarselo quindi in giro. E questo lo rende veramente molto comodo. Si sente però la mancanza di un DAC. Sarebbe stato ancora più bello avere un DAC integrato all'interno dell'amplificatore e collegare direttamente l'amplificatore al nostro smartphone. Ovviamente per il prezzo a cui ho proposto questo articolo diciamo che anche il DAC sarebbe volere troppo. Per quanto riguarda l'ascolto, il suono è veramente molto corretto e lineare. Non ci sono disturbi o fusci di fondo, è molto molto silenzioso. E l'aspetto timbrico che ho notato principalmente, ascoltandolo con diversi tipi di cuffie, è che rende la cuffia più dettagliata, più aperta. Quindi tende diciamo a schiarire il suono delle nostre cuffie. Quindi se poi andiamo a rapportare il suono al prezzo, ci rendiamo conto che siamo di fronte veramente a un oggetto da rapporto qualità-prezzo, anzi rapporto qualità-sonora-prezzo veramente stratosferico. Siamo giunti ai voti finali, alla potenza ho dato un 7,5, alle misurazioni ho dato un 9,5, al suono un 9, al design un 8,5, alla versatilità un 7, al rapporto qualità-prezzo un 9,5. A proposito di prezzo, questo Dohcaudio U3 si trova su Aliexpress al costo di circa 32€. davvero un ottimo prezzo, c'è già solo il costo del case in alluminio, penso che valga il costo di tutto l'amplificatore sostanzialmente. Aliexpress è un sito che io ho testato e posso dirvi che è affidabile, non è però come Amazon. Infatti con Aliexpress i prodotti arrivano, però ci impiegano almeno due settimane solitamente per arrivare, delle volte anche un mese. Se il prodotto non ci arriva, possiamo aprire un reclamo e veniamo rimborsati. Se però il prodotto ci arriva e non siamo soddisfatti della qualità del prodotto, non possiamo fare un reso. Cosa che invece possiamo fare con Amazon, dove abbiamo consegne praticamente in un giorno e la possibilità di rendere il prodotto se non soddisfa le nostre aspettative. Su Amazon però il prezzo sale a circa 48€. Io per chiarezza vi ho dato entrambe le soluzioni. In descrizione vi metto sia il link di Aliexpress sia il link di Amazon. Vi ricordo che il link di Amazon è un link affiliato, quindi se voi decidete di acquistare questo amplificatore o qualsiasi altro prodotto su Amazon tramite il mio link, il prezzo per voi non cambierà di un centesimo, ma Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale che potrò utilizzare per migliorare il setup del canale. Vi lascio inoltre il link della pagina prodotto della DocAudio, del sito del produttore, così potete andare a vedere meglio i dettagli del prodotto. Grazie per essere arrivati alla fine del video. Se ancora non avete visto il video del fratello di questo amplificatore, ma valvolare, vi consiglio di andare a vederlo. Potete cliccare sul banner in alto a destra che vi compare per andarci direttamente. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di lasciare un like se il video vi è piaciuto. Per voi è semplicemente un click, ma per me invece è un ottimo incentivo per andare avanti a fare video. Grazie e al prossimo video.